Salve amici miei, oggi per la festività dell'epifania ho deciso di fare un piccolo pranzetto e quindi preparerò un risotto con funghi porcini e radicchio come primo piatto poi farò una suprema di pollo agli agrumi e con una buonissima parmigiana di melanzane e con provola freschissima e poi ovviamente non mancherà il dolce e dopo facciamo vedere tutto quello che ho preparato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti